Sono finalmente uscite delle nuove carte Pokémon e sto parlando ovviamente di Scarlatto e Violetto 151 ovvero una rivisitazione della first gen, i primi 151 Pokémon, quelli con cui sono cresciuto io guardando l'anime, con le figurine, con le carte e quindi sono molto nostalgico Così ho chiesto al mio caro amico Federic di mandarmi un bel regalino a casa Quest'oggi faremo uno spacchettamento epico e spero di avere fortuna Quindi mi raccomando lasciate un mi piace e visitate il Federic Store se anche voi volete fare uno spacchettamento di queste nuove carte Oh mio dio, questo è il box, guardate quanto è clean Ma ovviamente Federic mi vuole bene quindi non mi ha mandato solo un box Ho anche due di questi e anche questo Oggi ragazzi abbiamo tantissimo da spacchettare, quindi il mi piace è d'obbligo Bene ragazzi, sono pronto Sapete bene che i pacchetti di Federic sono fortunati Quindi mi aspetto delle grandi carte Apriamo il primo Senza distruggerlo e massacrarlo Paras Voltorb Che bello ragazzi, quanto mi sta già colpendo la nostalgia Krabby Senshu Onix Dragonair Bello, questa mi piace la mettiamo qua Moltres di già? Ok Ambra Antica Flareon Guardate che bella No vabbè ragazzi, stupenda Stupenda La mettiamo tra i preferiti Energia base Holo Non pensavo neanche fosse possibile Beh, come primo pacchetto non ci è andata male Apriamone un altro Dai dammi, dammi subito un bel Charizard Lo sapete ragazzi Charmander, Charmeleon e Charizard sono i miei preferiti E visto che queste sono tutte quante della prima gen Possiamo trovarli Slowpoke Magmar Orsi Abra Uh che bella questa Abra Particolare Hero Onix Un altro Dragonair Ok Pigeot E Nidoking Wow Questa è bella Questa è molto bella E non è finita Abbiamo trovato anche Jolteon Ma ragazzi Per caso Per via di Federic Che sto avendo così tanta fortuna Questi pacchetti sono veramente OP E continuiamo allora Continuiamo Apriamone un altro Oh Bellsprout Magikarp Che strano riaprire la prima gen ragazzi Oddish Monkey Seaking Butterfree Bello sto Lapras Un altro Magikarp Stavolta però sbrillucicoso E Aerodactyl Oh Oddio pure Mewtwo È bellissima È bellissima Non so se rende dalla camera ragazzi Wow Wow Devo fare molta attenzione Perché non ho idea del valore di queste carte Essendo che sono appena uscite Voglio un Charizard Apriamone un altro Ovviamente ragazzi Come vi ho già detto Tutti questi pacchetti Li potete acquistare anche voi Nel Federic Store Quindi mi raccomando Link in descrizione Se volete avere anche voi Un po' di fortuna Allora Jigglypuff Staryu Charmander Questo lo si mette nei preferiti Spearow Cloyster Dewgong Mero totalmente dimenticato di questo Pokemon Hitmonchan Uno dei miei preferiti È anche Hitmonlee Primeape Weedle E un Electrod Ma devo dire che non mi sta andando male ragazzi Tante belle carte Tante belle carte Mettiamolo anche qua E andiamo avanti Perché non abbiamo finito Non siamo neanche a metà in realtà Ecco qua Il primo Pikachu Farfetched Bellina la grafica di questo Sheldr Helix Fossil Boh Mai visto Un altro Primeape Magmite Avanzi Vabbè Un Machok E la speciale Wigglytuff Wow Ma è strana È decentrata Di proposito O No sono confuso È stortissima Ma non capisco E Polivra Tutti quanti E ai pacchetti Beh innanzitutto Gli starter ce li abbiamo già qui Vediamo adesso cos'altro Riusciamo a trovare Beh lo sento Questa è la volta buona Lickitung Di nuovo Vabbè Venonat Ma che è uguale a prima No ok è diverso PG Poliwhirl Mach Margie Mai sentita Margie Venomot PG Nidoran Bellissima Wow Guardate che bello l'art style Oh Oh Cosa L'ho trovata Ho paura a tenerla Charizard X Oh mio dio Wow Ho paura a tenerla ragazzi Questa la dobbiamo mettere subito in una sleeve Wow Non ho idea di quanto valga Non ne ho la minima idea Sono appena uscite Fatemelo sapere voi nei commenti Porca miseria Wow Che bella No ve la faccio rivedere Wow E' il primo Charizard E ce lo siamo portati a casa Andiamo avanti Meno male che sto attento ad aprirle Orsi Abra di nuovo Questo è il doppione Diglett Drowse Primape Farfetched Seaking E Alakazamex Wow Bellissimo anche qua Mi piace tantissimo sto stile grafico Guardate che bella Oh mio dio E anche questa va Nei preferiti Oh stavolta fortuna Tanta fortuna Ne abbiamo ancora un altro da aprire però Mamma se mi esce un altro Charizard Spacco tutto Ve l'ho detto Federick Store E' fortunato Pranti Senza spoilerarci le carte Oddish Monkey Meo Execute Slowbro Dugong Pinsir Da bambino mi faceva paurissimo Pinsir Non so perché Clefairy Ekans Bello sto Ekans Wow Tutto in mezzo ai fiori No 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 Non ho trovato un altro Non ho trovato un altro Ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Non è possibile In tre pacchetti C'erano due Charizard Wow Bello Ho avuto troppa fortuna Non è possibile Sto registrando Ok sto registrando Meno male Ragazzi Ho avuto una fortuna sfacciata Queste due sono incredibili Oh mio dio Ho paura a tenerle in mano Devo informarmi su quanto valgono Ma non perché le venderò Semplicemente perché Sono curioso Ho ancora degli altri pacchetti da aprire Ma facciamo che Se questo video supera i 7000 mi piace Ne porterò un altro Chissà Magari troviamo degli altri Charizard Quindi mi raccomando Supportatelo con un mi piace Con un commento qua sotto Fatemi sapere il valore Di queste carte che ho trovato E soprattutto Andate anche voi Nel Federick Store Se volete comprare Queste nuove carte Dal vostro Candy è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao